Un cordiale saluto, buongiorno e ben ritrovati a tutti cari telespettatori di FanoTV sul canale 17. C'è Occhio ai giornali, la rassegna stampa, il commento, la stampa del giorno che comincerà tra poco con la lettura delle pagine che abbiamo selezionato per voi, del Carlinio e del Corriere Adriatico. Prima però andiamo a vedere il santo. Oggi è San Lorenzo da Brindisi, il sole è sorto alle 5.45 e tramonterà alle 20.44. Come sempre diamo uno sguardo al tempo per la giornata di oggi. Il bollettino della protezione civile delle Marche prevede precipitazioni brevi, isolati fenomeni soprattutto sui monti Sibillini. Per il resto non c'è da dire granché, sulla costa ci sarà bel tempo soleggiato. Domani, giovedì 22, ancora tempo soleggiato, qualche nuvola all'interno. Mentre venerdì ci avviciniamo al fine settimana, ancora cielo sereno poco nuvoloso. Il cielo sereno sarà su tutta la costa Adriatica. Poi tempo stabile anche per il fine settimana. Ma andiamo subito da Edoardo, dalla splendida Baia di Porto Novo, in diretta per noi, per raccontarci. Guardate che meraviglia. Buongiorno Edoardo, questa nuova giornata... Buongiorno a tutti voi. Questa nuova giornata che si apre. Allora, che cos'è un battello, una barchetta, che cos'è lì dietro? Allora, no, oggi va bene, questo no, questo è il nostro gommone di soccorso messo a disposizione per tutta la Baia, un'imbarcazione che facciamo soccorso in mare, sempre comandati dalla Guardia Costiera, perciò è una barchetta di soccorso che abbiamo qui a Porto Novo, della Società Nazionale di Salvamento. Questa mattina è una giornata meravigliosa, l'ideale per fare una passeggiata in sup, in canoa, perché le condizioni del mare sono veramente belle, ideali per chi si vuole avvicinare al mare con la massima tranquillità. Bellissimo questa mattina. Sì, davvero bello, guarda, ti invidio tantissimo perché un mare così, in una zona così riservata poi tra l'altro, dà l'idea di intimità, non so perché, ma sarà questo verde che insieme all'azzurro del mare sono un connubio straordinario. Allora, questo è il tuo ristorante, fate una festa voi mi pare, lì da quelle parti in Porto. Allora, diciamo che io e mio padre così da sempre non facciamo morire le tradizioni, quella della tradizione delle barche a remi, ma soprattutto quella della festa del mare. Io sono attaccatissimo alla nostra Madonna di Porto Novo, perciò ogni 15 agosto facciamo la festa del mare. L'anno scorso è stato un evento molto particolare con il Covid e il nostro Angelo Spino, il nostro vescovo è venuto a bordo con me, come faccio sempre, ma questa volta con le barche a remi. Perciò invitiamo tutti il 15 agosto a scendere a Porto Novo, magari con le canoe, anche perché faremo qualcosa di molto semplice con le barche a remi, porteremo il nostro vescovo a remi questa volta, anche quest'anno. È molto bello, la festa del mare è il 15 agosto. Bene, allora abbiamo mandato quindi l'invito, ricordiamo che per chi volesse comunicare, tu hai una pagina Facebook qualcosa del genere, immagino di sì. Sì, sì, ma anche qui del ristorante Emilia non c'è nessun problema, insomma, anche Rubini Edoardo, insomma, noi il 15 agosto facciamo questa cosa, invitiamo. È una cosa molto bella, sia stare in chiesa, sia vedere tutte le imbarcazioni che sono davanti alla chiesa di Porto Novo, che verranno benedite dal nostro carissimo vescovo Angelo Spina. Bene, allora ci vediamo domani mattina Edoardo, grazie, buon lavoro e buona giornata. Buona giornata a voi da tutto a Porto Novo. Ciao, buona giornata. Ciao. Allora, i titoli delle notizie di oggi, i titoli dalle prime pagine, come abbiamo già detto, Corriere Adriatico, adesso del Carino, cominciamo dal Corriere Adriatico, edizione di Pesaro. I comuni Novax da Matita Blu, da Monte Cavallo a Barbara, 23 paesi sono sotto osservazione per le basse adesioni nella fascia over 60. A Gabice Gradare e Porto Recanati, invece, altri guai, siamo intorno al 35% per chi ha meno di 60 anni. A centropagina, invece, la dichiarazione, l'annuncio di Ricci, Green Pass per la Fiera, San Nicola, arriva il no degli ambulanti. Gli ambulanti sono contrari a questo Green Pass. Poi abbiamo visto poco fa in diretta da Porto Novo un comune di salvataggio, perché comunque, quando si parla di mare, si parla anche di fare attenzione, si parla anche di purtroppo vittime che ogni anno vengono segnalate. In questo caso, quella di ieri è stata una giornata tragica per la spiaggia di Porto d'Ascoli. Prima un giovane tunisino residente a Rotella è morto per negamento, dopo essersi tuffato in acqua dagli scogli. E poi, invece, più tardi, un malore fatale sulla battigia, una donna è morta una donna di 74 anni. Le notizie in breve, invece, sempre da Pesaro, furbetto del reddito di cittadinanza, patteggia 22 mesi, non aveva dichiarato le vincite, eccetera, eccetera. Maxi Rissa fuori dal locale Urbino, sono nuovi denunciati. Amarotta schianto shock, ragazza al volante, salva in extremis. Qui sotto, in taglio basso, allora, finisce all'asta per 7 milioni il comparto edile di Pantano, l'area suddivisa in commerciale residenziale. Nella vendita rientra anche la zona ex Copredil, mentre via le auto dalla piazza, il sindaco di Fano Massimo Serri incalzato dai residenti. Andiamo a vedere adesso, invece, il resto del Carlino. Eccola qua, l'apertura. La fotonotizia è per la fiera, la fiera con il Green Pass. San Nicola, l'annuncio del sindaco e la rabbia degli ambulanti. Poi il virologo, il virologo delle Marche, sanzioniamo i Novax. Menzo dice una frase che, secondo me, è terribile. Una frase che spero sia soltanto una forzatura del giornale e non lo abbia detto davvero. Perché se davvero questo dottore, questo professore ha detto una cosa del genere, sarebbe... E mi fermo qua. Dobbiamo rendergli la vita dura. Questa è la frase terribile che avrebbe pronunciato il virologo Menzo. Intanto partono i camper per le somministrazioni itineranti. Allora, andiamo adesso a vedere... Restiamo sulla prima pagina del resto del Carlino per le notizie in breve. Vi do i titoli, così poi noi all'interno ci soffermiamo invece su altre notizie. Allora, sull'azienda ospedaliera Marche Nord, in Regione si prepara la rivoluzione. C'è questa strategia sanitaria che si sta mettendo a punto. Poi a Urbino riapre la fortezza al Bornoz. Poi, sempre dalla prima, la scultura di Rodina Gredara celebra Paolo e Francesca. Poi, ginnastica aerobica agli europei nell'astronave di Pesero. E sotto, lo sporto con il calcio. Vis arriva in prestito Lombardi e basket. La VL abbraccia Sacota e saluta Serpilli. E adesso invece entriamo nelle pagine interne. Andiamo a vedere, dunque, facciamo un po' il punto della situazione, soprattutto sulla fronte della pandemia. Però, prima di dare un'occhiata all'andamento, io direi che, così come fanno i giornali questa mattina, che la notizia del giorno è quella dell'annuncio del sindaco di Pesero Matteo Ricci di rendere obbligatorio il Green Pass per andare alla Fiera di San Nicola. Fiera di San Nicola, che come tutti gli anni, perlomeno prima della pandemia, era una fiera molto eseguita. L'anno scorso non c'è stata, molto frequentata. Insomma, migliaia di persone, come tutte le fiere, compresa quella di Fano, Senigalli e quant'altro, insomma, sono tutte molto frequentate. L'anno scorso non c'è stata. Quest'anno l'idea del sindaco è di anticipare a livello nazionale di tutti quanti e di rendere l'accesso obbligatorio con il Green Pass. Chiaramente questo è un annuncio che ha scatenato una marea di polemiche. E allora, la battaglia di Ricci, il titolo fiera di San Nicola sì, ma con il Green Pass il sindaco prende tutti in contropiede e innesca un dibattito acceso. L'associazione degli ambulanti contraria sui social la pioggia di critiche. Sono abituato agli insulti, dice Ricci, quelli dei Novax, ma ora deve prevalere la responsabilità. L'altra pagina su questo argomento, il resto del Carlino. Alla fiera di San Nicola solo con il Green Pass, ma su regole e controlli è tutto in alto mare. Ricci annuncia la scelta di limitare gli accessi alle bancherelle. Deciso col prefetto, aspetti organizzativi ancora da vedere. Si potrebbero fare verifiche a campione oppure negli accessi e nelle uscite. Chi vuole frequentare, dice Ricci, le altre persone, stare in mezzo alla gente, deve farlo in sicurezza. Vaccinarsi è un dovere perché la libertà di ognuno finisce dove inizia quella degli altri. Per la libertà di tutti dobbiamo ripartire e non chiudere. Le associazioni di categoria però alzano il muro e parlano di decisione sbagliata e tardiva. E dunque questo primo alto là arriva dall'Associazione di Confesercenti, l'Anva, che dice siamo favorevoli ovviamente al vaccino, ma contrari al fatto che se si deve trovare un sistema per convincere le persone a vaccinarsi, si debbano mettere in prima linea le attività commerciali o comunque gli operatori. Se ci viene imposto, ora il Green Pass per l'ingresso alla fiera di San Nicola, è facile supporre che domani verrà imposto per entrare in un supermercato o in un centro commerciale e poi in un ristorante, in un negozio di abbigliamento e in un alimentare. In pratica gli operatori commerciali sarà richiesto di fare quello che non compete loro, ovvero i garanti della sicurezza di una collettività. Insomma, alla fiera di San Nicola c'è questa altra osservazione, essendo all'aperto dovrebbe essere un luogo piuttosto sicuro, anche perché, ragioniamo un attimo insieme, ci hanno appena detto che fuori all'aperto possiamo mangiare, possiamo non tenere le mascherine se c'è un certo distanziamento, chiaro, alla fiera si è un po' tutti attaccati, però io credo che oggi, dopo due anni, siano pochi quelli che stanno uno sopra l'altro, come si faceva quando si deve scegliere una maglietta piuttosto che un pantaloncino. La distanza solitamente si tiene e quindi diciamo all'aperto non dovrebbe essere tutto questo problema. Inoltre, sempre le associazioni di categoria dicono l'imposizione, parlano di imposizione, del Green Pass per il 10 settembre, arriva troppo tardi e dunque non possiamo accettare che a qualcuno sia impedito di lavorare. Quindi, ovviamente, gli ambulanti, che probabilmente già hanno pagato per avere il posto alla fiera di San Nicola, eccetera, eccetera, di fronte alla possibilità che ci sia molta meno gente, insomma, e quindi molti meno incassi, si trovano in difficoltà. Contraria anche alla Confesercenti. Non capisco perché uno debba sempre anticipare gli altri, dice Ippaso, quell'uno sarebbe il sindaco Ricci, che ha deciso di anticipare addirittura il governo nazionale. Aspettiamo cosa viene deciso, dice Ippaso, appunto a livello italiano, a livello nazionale. Ieri noi, quando è arrivata la notizia del Green Pass obbligatorio, abbiamo pubblicato una notizia dove abbiamo scherzato, abbiamo cercato di fare un po' di satira. Qui a Pesaro non esiste, qui in provincia di Pesurbino, ma nelle Marche non esistono più giornali di satira, siti di satira. Siamo tutti diventati seri, mamma lucchi, con la faccia triste. E quindi non ride più nessuno, sono tutti sul chi va là, tutti si offendono. Ieri abbiamo provato a scherzare facendo vedere questa fotografia di Matteo Ricci in spiaggia, mentre si fa un selfie con la corona da re. Come dire, a Ricci piace giocare a fare il re, quando in realtà non gli ricordiamo che è un sindaco stimato, bravo, che fa tutto quello che deve fare, fa anche di più sicuramente, però si comporta da re e gioca a fare il re. Insomma, l'abbiamo messa un po' così. Pare che si sia offeso, però non lo so. Ma, no, offeso no, se la sia presa, così mi hanno detto, ma speriamo di no. Detto questo, detto questo, il Carrino. Gli ambulanti si schierano contro il sindaco, i mercati ancora nel mirino, come sempre. Basta un giro tra le bancarelle del mercato per capire l'aria che tira tra gli operatori dopo l'annuncio di Ricci. L'affluenza calerà, dicono preoccupati. Poi non si capisce la disparità di trattamento, perché in altre iniziative non si impone il Green Pass. Vedete qual è la parola, la parolina? Imporre, imposizione, imposizione. Qui la nostra libertà si va a farsi benedire. C'è questa imposizione che ormai sta prendendo piede e c'è questa corsa a vaccinare il mondo. Ribadisco ancora una volta, non sono Novax. Io sono per i vaccini, lo sono, lo sono sempre stato. Tutte le persone vicine a me, care, hanno fatto il vaccino. Non ho mai consigliato a nessuno di non farlo. Figuriamoci se l'ho fatto sia privatamente e anche non privatamente, quindi pubblicamente in televisione. Quello che cerco di far capire è che la libertà delle persone non può nessun modo, in nessun modo deve essere messa in discussione. La libertà del singolo individuo. Anche di uno che vuole correre il rischio di ammalarsi. Perché? Perché chi non si vaccina evidentemente corre dei rischi maggiori rispetto a chi si vaccina. Ma chi si vaccina e viene contagiato da uno che non è vaccinato non rischia. Almeno così ci dicono. Non rischia. Quindi dov'è il problema? Chiaro, poi se vogliamo fare una questione di ospedalizzazioni perché comunque anche i Novax poi devono essere curati, devono essere portati in ospedale, devono essere... E qui la spesa pubblica aumenta, eccetera, eccetera. Allora questo è un altro discorso e si può discutere di tutto e di più. Ma la libertà, su questo io, ce l'ho. Ecco, la libertà è sacrosanta. Su questo non transigo personalmente. E quindi deve esserci la libertà anche... Scusate, poi la facciamo tanto lunga su questa libertà, la libertà di uccidersi, di fare l'eutanasia, la libertà di abortire. Siamo tutti per la libertà e poi ci infossiamo su queste cose. Io voglio anche avere la libertà eventualmente di correre il rischio di prendere il coronavirus perché decido di non vaccinarmi, perché non sono sicuro del vaccino. Ecco, questo è un ragionamento che potrebbe essere fatto. Ma l'imposizione no. La Confesercenti dice no. Rischioso precedente. Questo è il titolo sempre dal Corriere Adriatico. Ligurgo e Rinaldi dicono meglio allora imporre l'uso delle mascherine. Che cosa si dice in sostanza? Piuttosto che il Green Pass, allora riportiamo in queste occasioni, anche se all'aperto, l'uso obbligatorio della mascherina. Perché in effetti, insomma, in tanti sicuramente non la indosseranno, anche se poi ci sono assembramenti. perché si è all'aperto. Intanto, che cosa succede? Succede che le Marche stanno organizzando le truppe, la Regione sta organizzando le truppe, i camper, una volta si andavano a stanare i nemici con i fucili, adesso invece con le siringhe. Novax tra gli over 60. 23 comuni finiscono sotto osservazione. La Regione ha individuato le zone dove c'è più resistenza alla profilassi. Oltre 70 i centri dove la fascia qui, 12-59 anni, a basse percentuali di decisioni. Andate pure nei parchi giochi a convincere i ragazzini di 12-13 anni a dire e bimbo, vieni qua una volta, non prendete le caramelle dagli sconosciuti, adesso non fatevi iniettare la siringa dagli sconosciuti. Magari la raccomandazione, sto esagerando, ovviamente sto enfatizzando, sto facendo anche forse, e sto dicendo cose che urtano la sensibilità di qualcuno e questo mi dispiace. Però, credetemi, stiamo andando e stiamo prendendo una brutta piega. L'obiettivo è raggiungere i Paesi con punti mobili e convincere gli incerti. Ora, io, per esempio, abbiamo ragionato, sempre qui in Rassegna Stampa, di un altro aspetto. I vaccini più o meno sono tutti uguali, quindi sul vaccino c'è poco da discutere. Però credo che sia importante una volta che uno decide di fare il vaccino di farsi prima visitare da un medico. Perché? Perché io mi faccio iniettare un farmaco, sperimentale, lo ripetiamo fino al 2023, ma proprio perché è sperimentale non so qual è la reazione al mio corpo. Io potrei anche avere qualcosa che non conosco, una malattia che non so, un'insufficienza da qualche parte, e quindi è bene che chiunque, prima di farsi iniettare il vaccino, faccia almeno una visita dal proprio medico. Ok? Quindi, arrivare con questi camper, improvvisati, e dire, convincere le persone, il primo che passa, si vuole fare la puntura, sì, prendi, tac, e la butti dentro. Cioè, mi sembra una cosa, da fuori di testa, non so come altro dirlo, ma poi dopo è chiaro che si scopre la ragazzina che poverina a 18 anni muore perché era malata e lei non lo sapeva. E certo, perché prima andava visitata. Ora, medico e infermiera, positivi, al lavoro senza vaccinazione, i due casi nell'area vasta numero 3, si stringe il cerchio sui sanitari non immunizzati. E qui è un altro discorso, chiaramente, sui medici, i medici lo fanno per professione, stanno a contatto con le persone che già sono malate, sono fragili, eccetera. E qui il discorso cambia. È chiaro che ci vuole una copertura, ci vuole un vaccino per questi operatori sanitari. E questo sì, non c'è molto da fare, insomma. Ora invece, ripeto, andiamo sulla pagina di Pesaro dell'arresto del Carlino. C'è questa pagina che francamente destabilizza un po' per le parole forti, secondo me terribili, che sono state pronunciate e che io mi auguro siano soltanto una forzatura del giornale per così, come solitamente si fa, ma che il virologo Melzo in realtà abbia detto una cosa che non è proprio così. Perché? Andiamo a vedere il giornale. Mezzo milione ancora da immunizzare, questo è il titolo. il virologo rendiamo la vita dura ai Novax. Menzo, sanzioni per chi si rifiuta, intanto partono i camper per le inoculazioni, ma cinque non bastano, ne servono di più. Allora, e poi i termini che io contesto ormai da diverso tempo, ma vabbè, in regione vogliono sottolineare che non sarà facile affrontare la caccia agli over 60. 60. Parliamo di caccia non al cinghiale, non la caccia alle volpi, parliamo di caccia agli uomini che hanno più, alle persone che hanno più di 60 anni. E vabbè, vogliono sottolineare che non sarà facile affrontare la caccia agli over 60, cheppure sono ancora a quota 36.000 non vaccinati. La regione passerà da cinque camper a sette o otto, ma non sarà subito. intanto il virologo di Torrette Stefano Menzo dice occorre proporre incentivi consistenti alle persone che scelgono di vaccinarsi e pensare anche sanzioni per chi non si vaccina, altrimenti il rischio di non ottenere i risultati. Dobbiamo rendere la vita difficile dal punto di vista burocratico a chi non si è vaccinato. Un green pass esteso a tutte le attività quotidiane in modo da incentivare la vaccinazione. quindi il green pass esteso a tutte le attività quotidiane abbiamo detto che prima o poi per entrare al supermercato dovrei essere vaccinato, per andare al bar vaccinato, per andare... insomma, devi essere vaccinato. Non è un obbligo, ma chiaramente. Sul fronte della sanità, sempre sul fronte della sanità, ma io vorrei solo per chiudere, per darvi degli stimoli e riflettere, per non bere tutto quello che vi danno e che vi leggono, che vi dicono nei telegiornali. Allora, lo stimolo è questo. Quando è che abbiamo festeggiato gli europei? Ormai sono passati... Riccardo, aiutami, domenica scorsa, la volta scorsa, sono nove giorni? Beh, già sono passati circa nove giorni. Ora, per come... e per le scene di giubilo che abbiamo visto tutti quanti in televisione, eccetera, in molti si aspettavano un'ecatombe, contagi a palla. Invece, a leggere i giornali, perché li leggo, immagino che anche voi lo facciate, o i siti, andiamo a vedere che cosa succede. Dieci persone in un pub di Roma, venti in quello di Napoli, cinque... Cioè, allora, dov'è tutta stegatombe? In Italia. Poi dopo, quello che succede in Francia, quello che succede in Inghilterra, quello che succede... Non lo so, perché a me raccontano così, poi non ci sono, ma comunque prendo per buono quello che mi dicono. Ma tutto questo terrore per l'aumento dei contagi dopo gli europei, francamente, non si è visto. Quindi, c'è o non c'è questa variante Delta in Italia? Sì o no? Domanda che faccio a voi. Io la risposta non ce l'ho, ovviamente. Ospedali Urbino e Pergola dentro Marche Nord e è l'ipotesi di riorganizzazione che trapela dalla Regione, ovvero mantenere l'azienda ospedaliera, quindi l'azienda Marche Nord, mantenerla, non chiuderla, e allargarla, così da lasciare all'Asur solo l'assistenza distrettuale. Intanto però il sindaco di Monbaroccio, lo abbiamo visto già ieri, scrive a Carloni dicendo l'attuale organizzazione, quindi Marche Nord, ha impoverito il territorio, bisogna cancellarla. Ha preso una posizione importante il sindaco di Monbaroccio, coraggiosa, se vogliamo. Da Fano, auto in via Mura a San Gallo, piazza Marcolini e 18 parcheggi aboliti, serie a visto i residenti prima di portare il progetto in giunta, diverse le richieste al sindaco, oltre al recupero degli stalli, stop abusivi con varchi e videocontrolli. Poi, in bici al Beato Sante sulla ciclovia Fano-Monbaroccio, già stanziati 20 mila euro per la nuova progettazione congiunta dei due comuni. La pagina di Fano invece del Carlino e il risico dei presidi, Falcomer lascia, la dirigente del Torelli va in pensione, buone notizie per l'apertura della scuola di Carrara Cucurano, e poi il brodetto Fest arriva al Ministero, Delegazione di Confesercenti a Roma per ampliare la collaborazione. Vetrine vuote, siamo sempre in centro a Fano, il Comune ne conta 40, l'assessore Lucarelli le censisce per un progetto di riqualificazione da definire, soffrono profumi e abbigliamento, ma aprono tanti bar. La pandemia ha cambiato anche il modo di fare shopping dei fanesi, e quindi, però, di fatto, sono tanti davvero i locali che chiudono e che hanno chiuso ormai in centro storico. Poi, zona Foroboario, circolo anziani nel mirino dei Vandali. Dal Corriere, Valcesano, Marotta, schianto sul muro, notte shock, l'impatto è venuto alle 23 di lunedì in via Liguria, fortunatamente in Colume la ragazza al volante, i residenti si sono precipitate in strada, pensavano avesse sbandato un camion, è stato un botto tremendo, raccontano i testimoni. Poi, a Urbino, Maxi Rissa, fuori dal ristorante denunciati otto giovani e il titolare, violenza, pranzo, il filmato postato sui social e i testimoni hanno portato alle prime identificazioni. Ve le abbiamo fatte vedere queste immagini, questo video che testimonia appunto la Maxi Rissa di Fermignano, scene da, come dire, avvilenti. Riapre al pubblico la fortezza Albornozzi, il monumento di nuovo accessibile, biglietto da un euro e cinquanta, Urbino Servizio ha fatto un'ampia pulizia del verde nel Parco della Resistenza. E poi ancora, andiamo sull'altra pagina, velocemente, ginnastica aerobica e acrobatica agli europei alla Vitri Frigo Arena. Si svolgeranno dal 14 settembre al 3 ottobre queste gare previste in origine al Palace di Viale dei Partigiani. Il Palace, sapete, non è pronto. Il Comune ha offerto l'astronave dopo il contratto del 2019. Marco Cadetti dice faremo un figurone. E poi, dalla pagina 9, invece, prendeva il reddito di cittadinanza ma nascondeva guadagni e vincite. Un imprenditore condannato a un anno e dieci mesi di carcere credevo che i soldi da gioco online fossero esenti, ma la legge non emette ignoranza. Cambio della guardia al Bramante Genga, Biagini, la nuova preside. Andiamo adesso, invece, sulla pagina della Valle Metauro. Prima candidata a Fossombrone, Gloria Meiko un progetto comune, l'assessore uscente alla cultura punta la poltrona da sindaca. I 5 Stelle ora cosa faranno? E poi, ancora, sempre dai quotidiani, da Senigallia, senza la guardia medica turistica, il pronto soccorso va sotto stress, superati i 100 accessi giornalieri, il sindaco dice da lunedì attive due postazioni, l'allarme dei sindacati. E poi, lo hanno visto tuffarsi dagli scogli, muore poco dopo a 28 anni, una tragedia ieri mattina davanti allo scialelidio del Carabiniere, inutili i tentativi di soccorso. Siamo a San Benedetto del Tronto. E poi, malore fatale sulla battigia per una donna ancora cronaca da San Benedetto, una donna di 74 anni. Devo chiudere, tra poco, per chi ci segue in diretta, c'è la messa dalla Santa Casa di Loreto. Vi ricordo, questa sera alle 20.30 il telegiornale e poi alle 21 uno speciale sulla presentazione dei lavori di recupero del Chiostro di Sant'Agostino a Mondolfo. Grazie per averci seguito, a voi tutti l'augurio di una buona giornata. Arrivederci.